Si è tornati a parlare di Michele ed Amal nonostante il tronista nella precedente puntata avesse deciso di interrompere la conoscenza Nella puntata del 22 ottobre di Uomini e Donne, nella parte del trono classico, si è parlato di Michele, Amal e Alessio La corteggiatrice, come sappiamo, era uscita anche con il tronista romano, cosa che non era piaciuta a Michele, che aveva deciso di interrompere la conoscenza immediatamente Nel corso del nuovo appuntamento Maria De Filippi ha mostrato che Amala al termine della scorsa puntata è andata a trovare il tronista in camerino per avere un chiarimento In puntata Michele voleva avere un ulteriore confronto, ma poi dopo aver visto l'esterna con Alessio ha cambiato idea Dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 22 ottobre il tronista ha avuto un gesto inaspettato nei confronti della corteggiatrice Cosa è successo tra Michele e Amal dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne? Maria De Filippi ha fatto sedere Michele e Alessio e ha mostrato il confronto avuto in seguito alla precedente puntata tra la corteggiatrice e il tronista Lei praticamente gli ha detto di non aver ancora deciso cosa fare Maria De Filippi ha poi mostrato l'esterna di Amal con il tronista, nel corso dell'incontro subito gli ha spiegato di aver avuto un confronto con l'altro tronista Amal nell'esterna aveva portato ad Alessio un regalo da parte di sua madre, una bottiglia di vino Subito dopo hanno fatto una videochiamata alla madre di Amal e poi hanno chiacchierato molto vicino La corteggiatrice aveva freddo e Alessio le ha regalato il suo giacchetto, la corteggiatrice ha concluso l'esterna dicendo di essere stata molto bene e di aver tratto delle conclusioni e poi si sono abbracciati calorosamente Una volta in studio Michele ha spiegato che aveva molto apprezzato il gesto di lei di andare in camerino e quindi voleva parlarle, forse per dirle, forse, che avrebbe potuto riprendere la conoscenza Ma l'esterna con Alessio gli ha dato di nuovo prova che le piacerebbe più l'altro tronista Amal alla fine ha accusato Michele del suo comportamento, attaccandolo per la reazione avuta A quel punto è intervenuto Gianni che le ha fatto notare come sia assurdo che attacchi Michele quando a lei piace Alessio e poi ha spiegato che lei alla fine è uscita con Michele perché Alessio ancora non l'aveva portata in esterna Il tronista si è molto adirato e ha iniziato a urlarle, sei falsa, sei falsa, sei una bambina e sei falsa L'opinionista ha poi ribadito come sia palese che le piaccia più Alessio, si vede dalle differenze delle esterne Michele si è molto agitato, dicendo che gli è scaduta moltissimo e gli dispiace perché è quella che più gli piaceva E la prima volta che vediamo Michele così arrabbiato, a un certo punto ha anche lasciato lo studio Amal poi ha spiegato che aveva preso la decisione di restare solo per Alessio, cosa che chiaramente ha scatenato gli attacchi di Gianni Ad ogni modo la conoscenza tra lei e Michele sembrava ormai conclusa, ma secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sappiamo che il tronista e Amal usciranno di nuovo assieme, non si sa bene cosa sia accaduto, ma solo che si sono visti Il tronista potrebbe essere andato a cercarla, dimostrando ancora una volta un interesse Ad ogni modo la cosa non farà piacere ad Alessio che alla fine la eliminerà definitivamente Dunque la questione al momento è tutt'altro che conclusa